Iscriviti al canale di Walter Zanardi Lettura. Una tua donazione lo aiuta a restare libero e gratuito. Buon ascolto. Cosimino, il sagrestano di Santa Maria Nuova, teneva di guardia i suoi tre mormocchie ai tre mercati della città, che corressero subito a chiamarlo, scorgendo lontano quella zoppaccia della sgriscia, la vecchia serva di Don Ravanà. Dal mercato del pesce accorse quella mattina il terzo figliuolo, tutto trafelato. La sgriscia, papà! La sgriscia! La sgriscia! E Cosimino, via, di volo. Sorprese la vecchia, che stava a contrattare con un pescivendolo per una manciata di gamberi. Via di qua! Subito! Demonio tentatore! E volgendosi al pescivendolo, non le date retta, e con l'esta roba lei non ne compra. Non deve comprarne! La sgriscia arrovesciò le mani sui fianchi, appuntò le gomita davanti in atto di sfida, ma Cosimino non le date tempo di rimbeccare. Uno spintone e le fu sopra di nuovo, con le braccia levate, incalzando. Via! All'inferno, vi dico! Il pescivendolo allora prese le parti della cliente che sbraitava. Accorse gente da tutto il mercato a trattenere i due rissanti che già venivano alle mani. Cosimino urlava a furibondo. No, no, gamberi no! Non voglio che padre Ravanà ne mangi! Non può, né deve mangiarne! E Costei vada pure a dirglielo a nome mio! Costei lo tenta, come il demonio, e fa di tutto per rovinargli lo stomaco! Per fortuna si trovò a passare in quella via, dal mercato proprio lui, Don Ravanà. Eccolo, venga, venga! gridò Cosimino scorgendolo. Dica lei, si è ordinato alla serva di comprarle questi gamberi qua! Il faccione di Don Ravanà tremò, impallidendo in un sorriso nervoso. Balbettò. No, io veramente... Come no? Esclamò la sgriscia, dandosi un pugno sul petto ossuto. Stupita, trasecolata. Me lo negherebbe in faccia? Don Ravanà le diede sulla voce, arrabbiatissimo. Zitta voi, pettegola! Gamberi, v'ho detto? V'ho detto pesce! No, signore, gamberi, gamberi! Ma detto gamberi! O gamberi o pesce, non è tutt'uno? gridò allora Cosimino tra la serva e il padrone, mentre tutta la gente rideva. Lesso, brodo e latte. Latte, brodo e lesso e niente altro. Così le ha prescritto al medico. Vuoi capirlo? Non mi faccia parlare, santo Dio! Calmati. Sì, bravo. Hai ragione, figliuolo, soffrettò a dirgli Don Ravanà, tutto confuso, mortificato, evolgendosi alla serva. Andate pure a casa. Lesso, al solito. Gli astanti accolcero questa ordinazione con un nuovo e più alto scoppio di risa. E Don Ravanà si fece largo tra la ressa, sorridendo male come una rumaca nel fuoco e dicendo a questo e a quello Bravo figliuolo, Cosimino. Eh, bisogna compatire questo caro Cosimino. Lo fa per il mio bene. Sì, sì. Largo, figliuoli, largo. Tanta bella grazia di Dio qua. E io, io, lesso, brodo e latte, purtroppo. È la prescrizione del medico. Sì, non devo mangiare altro. Cosimino ha ragione. «Sht, guarda!» disse piano davanti all'altare Don Ravanà con gli occhi bassi al sagrestano che gli besceva acqua e vino nel calice. «C'è in chiesa il dottor Nicastro, qua davanti, presso la balaustra. Sta fermo. Non ti voltare, asino. A destra. Quando puoi, fagli cenno che rimanga dopo la messa e che entri in sagrestia». Cosimino saccigliò, impallidì, strinse i denti per frenare un impeto d'ira. «Iarsera, lei, dica la verità. Ti vuoi star zitto, mal creato, davanti al santissimo sacramento?» lo rimproverò Don Ravanà non tanto piano, voltandosi a guardarlo severamente. dalla prima pancata si intese il rimprovero del sacerdote al sagrestano e un sussurrio si propagò per un momento nella chiesa di protesta contro il povero Cosimino che diventò di braggia, tramando tutto dalla rabbia e dalla vergogna. Non sapeva più dove posare le ampolline della bile e dell'aceto. Finita la messa, seguì Don Ravanà in sagrestia, aggrondato, ingrugnato. Poco dopo entrò il dottor Liborio Nicastro, piccino, piccino, vecchissimo, tutto rattrappito dall'età. La falda della tuba gli posava quasi sulla gobba, vestiva l'antica e portava la barba a collana. «Che abbiamo, padre Ravanà?» domandò, parlando col naso e socchiudendo al solito gli occhietti calvi. «Avete una faccia che Dio vi benedica?» «Sì?» Don Ravanà guardò un tantino perplesso il medico, se credergli o no. Poi con voce irritata, come se si lagnasse ad un'ingiustizia di lui, rispose «Ma lo stomaco, dottor Liborio mio, lo stomaco! Lo stomaco non mi vuole più star bene. Volete intenderlo?» «Sfido!» sbuffò Cosmino, voltandosi a guardare da un'altra parte. Don Ravanà lo fulminò con un'occhiata. «Sedete, sedete, padre Ravanà!» riprese il dottor Liborio. «Visitiamo la lingua!» Cosmino, con gli occhi bassi, forse una seggiola ad Don Ravanà. Il dottor Nicastro transe flemmaticamente gli occhiali dall'astuccio, se li aggiustò sul naso e guardò la lingua. «Sporca!» «Sporca!» ripetè Don Ravanà cacciandosela subito dentro, come se la voce del dottore gliel'avesse scottata. Cosmino soffiò, questa volta col naso, un altro sbuffo. la bile gli ribolliva nello stomaco e teneva le pugna strette e le labbra serrate. Ma alla fine proruppe. «E allora che?» «Quel tartaro, come dicono loro!» «Sì, è metico, figliuolo», confermò placidamente il dottor Nicastro, porzendo la ricetta a Don Ravanà e rimettendosi in tasca occhiali e taccuino. «Sì, applicata Juvent, continuata Sanant. Non c'entrava, ma tanto era latino e tappò la bocca al povero sagrestano. «Dobbiamo fare al solito?» domandò questi, pallido, acciliato, appena andato via il medico. Don Ravanà aprì le braccia senza guardarlo e disse «Non hai sentito?» Allora, riprese Cosimino, funebre, «Vado a dirlo a mia moglie. Mi dia i soldi per la medicina e se ne vada a casa. Vengo subito!» «Ah!» a ogni scalino. «Ah! Ah!» La sgriscia intese quel lamento per le scale e corse ad aprire a Don Ravanà. «Sta male?» «Malissimo, malissimo!» «Andate via! Andate a chiudervi in cucina!» «A momenti arriverà Cosimino!» «Non vi fate vedere se non vi chiamo io! In cucina!» La sgriscia andò ad interarsi mogia mogia. Don Ravanà entrò in camera e tolse la zimarra. Entrò con le bracche scinte e un panciottone lungo lungo e largo in maniche di camicia e si mise a passeggiare e a riflettere amaramente. La coscienza gli rimordeva. Non c'era dubbio. Dio misericordioso gli concedeva la grazia di metterlo alla prova per mezzo di quel diavolo zoppo travestito da donna e lui, lui, ingrato, non ne sapeva approfittare. «Ah!» esgramava con intensa esasperazione fermandosi di tanto in tanto e scotendo in aria le pugna. La poca e povera masserizia pareva in quella camera quasi smarrita sull'ampio nudo pavimento di vecchi mattoni di Valenza quella rotti e sconnessi. In mezzo alla parete a destra era il letticiuolo pulito dai tre spoli di ferro esposti. A capezzale un antico crocefisso d'avorio ingiallito dal tempo. Gli occhi di Don Ravanà non osavano quel giorno levarsi a guardarlo. In un angolo presso il letto una vecchia carabina e appesa alla parete alcune grosse chiavi quelle della casa di campagna. ecco Cosimino poveretto puntuale e andò ad aprirgli lui stesso. Mi raccomando per carità premise Cosimino prima d'entrare non mi faccia vedere quella stortaccia infame. Per causa sua basta ecco qua la medicina vada a prendermi un cucchiaio sì sì vado vado disse umile premuroso Don Ravanà grazie figliuolo mio tu mi ridai la vita entra entra in camera ritornò poco dopo pallido e tremante col cucchiaio in mano la punita sai sta a piangere in cucina dici bene figliuolo mio tutto per causa sua sentisti ieri l'ordinazione che le diedi al mercato ebbene mentre sudabo di ossacove e dio sa quanto a mandar giù quella stoppaccia che il medico mi prescrive me la vedo entrare sai tutta maliziosa nella salita da pranzo nell'atto di riparare con una mano un bel piatto di che avresti fatto tu avrai mangiato i gamberi rispose asciutto e serio cosimino ma poi avrai scontato da me il peccato di gola non lo avrai fatto scontare a un povero innocente don ravanà chiuse gli occhi trafitto e trasse un lungo sospiro parlava bene sì cosimino sì era senza dubbio una barbarie da riaprendere a lui ogni volta il tartoremetico ordinato dal dottor nicastro bastava don ravanà assistere agli effetti del medicinale nel corpo della vittima perché ne avesse lo stesso beneficio per virtù dell'esempio barbarie sì ma sapeva forse cosimino quante volte il pensiero di lui tratteneva don ravanà lì per cadere in tentazione aveva bisogno del rimorso che gli cagionava il vederlo soffrire lì sotto i suoi occhi ingiustamente per trionfare in seguito della sua carne vile cosimino aveva ricevuto da lui tanti e tanti benefici ebbene in ricambio che gli chiedeva lui questo solo sacrificio per la salute non tanto del corpo quanto dell'anima ogni volta però la vista di quel supplizio a cui la vittima si sottoponeva senza ribellarsi lo sconvolgeva talmente rimorso stizza avvilimento gli facevano tale impeto nello spirito che don ravanà si sarebbe gettato dalla finestra che fa piange adesso disse cosimino via via lacrime di coccodrillo no già mette con sincera afflizione don ravanà va bene va bene si butte sul letto allora e stia a guardare mi prendo la prima cucchiaiata don ravanà si buttò sul letto con gli occhi lacrimosi e il volto contratto dalla pena cosimino pose il brico sulla spiritiera dopo aver pronta al bisogno l'acqua tiepida poi chiudendo gli occhi ingollò la prima cucchiaiata del medicinale ecco fatto non mi compianga per carità si stia zitto o faccio cose da pazzi zitto si zitto povero figliuolo mio hai ragione parliamo d'altro sai domani se il tempo lo permette e mi sento meglio devo andare in campagna vieni anche tu e porta con te i tuoi figliuoli tua moglie a prendere una boccata d'aria senza darvi pensiero di nulla malannata cosimino mio però dio si castiga dei tanti nostri peccati la pazienza divina è stanca il mondo piange ma piange e uccide hai sentito guerra in africa guerra in cina il povero soffre ma soffre e ruba e l'ira del signore ci sta sopra la grandina hai visto ha flagellato orti e vigne la nebbia minaccia gli olivi di un po' ti senti già no no signore ancora nulla mi prendo l'acqua tepida bene bene discorriamo dunque sì il raccolto del grano sì è stato piuttosto abbondante e se dio vuole e maria santissima ci fa la grazia mitigheremo con esso in certo qual modo la iattura dell'annata cosimino ascoltava con molta attenzione ma forse senza intender sillaba di tanto in tanto si faceva in volto di mille colori poi d'un tratto in pallidiva in pallidiva vi è più sudava freddo si agitava un po' sulla seggiola l'occhio gli vagellava ah mamma mia padre ravanà comincia a muoversi credo che ci siamo sgriscia sgriscia gridava allora don ravanà impallidando anche lui e guardando fisio cosimino per promuovere anche in sé con quella vista gli effetti del medicinale venite subito credo che ci siamo la sgriscia accorreva a sorreggere la fronte del padrone e cosimino intanto tra i conati e i contorcimenti ne appoggiava sotto sotto calci di vero cuore adesso un buon tazzone di brodo per cosimino ordinò verso sera don ravanà alla serva ci vuoi fettine di pane di cosimino si signore come dice lei mi lasci stare fece il povero sagrestano rifinito pallidissimo con la testa cascante appoggiata al buro senza neppur la forza di fiatare con fettine di pane e un tuorlo d'uovo aggiunse forte don ravanà tutto premuroso di ce lo vuoi è vero un bel tuorlo d'uovo cosimino non voglio niente mi lasci stare ci mette questi al colmo dell'esasperazione lei si fa la chiacchieratina e io c'ho il veleno in corpo per lei prima mi rovina lo stomaco e poi fettine di pane e tuorlo d'uovo sono azioni degne di un santo sacerdote coteste mi lasci andar via mannaggia perderai la fede ahi 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 e se ne andò con le mani sul ventre nicchiando così che brutto viziaccio esclamò stizzito don ravanà prima tutto mansueto poi ci ripensa e diventa una vespa e dire che gli ho fatto tanto bene a quel brutto ingrato stette un po' a tentennare il capo con gli angoli della bocca contratti in giù poi chiamò sgriscia dammelo a me il brodo ce l'hai messo il torro d'uovo brava ora il cappello e il tabarro esce? eh sì non lo sai mi sento benone adesso grazie a dio grazie a tutti